ciao sono carolina insegno a siti zen ashtanga vinyasa yoga e vinyasa flow mi ha unito a questa pratica l'aspetto della ripetitività parlo dell'ashtanga in quanto mi ha fatto scoprire la grande libertà che si cela dietro a ripetere la stessa cosa in quanto crea meccanicità e automatismo che ti dà una sorta di autonomia che è sempre stata la mia ricerca fin da piccola la mia pratica è direi più devozione che disciplina ogni volta intensa è mai sempre una scelta d'amore non lo faccio perché è disciplina lo faccio perché lo scelgo lo voglio e sento che glielo devo allo yoga perché mi insegna che più do più ricevo e poi impagabile la sensazione che ti lascia dopo attraverso la sequenza provi di tutto dolore piacere lo senti tutto ma quello che provi alla fine la leggerezza che ti lascia a livello mentale e fisico è impagabile per cui ritornare sul tappetino ha sempre sempre il suo senso per questo motivo per la leggerezza ma e e e Restez simple, anche se tutto sembra difficile.